Salve a tutti, ringrazio Vergence di GameInternet per l'opportunità di far vedere la mia lista. Sono Alexandro Caroli, ho partecipato al nazionale olandese durante lo scorso weekend. Ho finito con un risultato di 7-2, classificandomi diciottesimo dopo i turni di Svizzera. Sfortunatamente la top era 16, quindi ho bollato. E niente, oggi vi farò vedere la lista che ho giocato. Come mazzo ho giocato Punkterion. Iniziamo con il main deck. Per l'Engine Punk ho giocato 3 Zeamin. Zeamin è la normal principale del mazzo, ti permette di pagare 600 per aggiungere qualsiasi mostro Punk dal mazzo alla mano. Poi ho giocato 3 Foxitun. Foxitun ti permette di evocarsi speciale tributando un Punk che controlli, oppure mandando se stessa di costo. È un'altra carta che ha in mano al cimitero per evocare qualsiasi Punk dal mazzo, che non sia di livello 8. Poi ho giocato 3 Ogredence. Ha lo stesso effetto di poter tributare un Punk e evocarsi speciale, ma anche l'effetto di poter mandare se stessa dalla mano al cimitero per aggiungere qualsiasi Punk non livello 8 dal mazzo. Ho giocato 3 Teleport per facilitare l'accesso a Zeamin, una Deer Note. Deer Note è ciò che evochi specialmente di Foxy la maggior parte delle volte, oppure la aggiungi se hai un altro Punk in mano di solito. Puoi attivare l'effetto in mano, rivelare un altro Punk, evocare se stessa o l'altro Punk che hai rivelato e mandare quello che non è evocato al cimitero. E poi gioco un Sharakusai. Sharakusai ti permette di pagare 600 e di evocare tramite fusione una fusione Punk dall'extra deck usando mostri controlli o in mano. Questo ti permette di evocare la fusione, che è appunto il Rising Carp. Questa carta serve principalmente per giocare in mezzo all'HT oppure per facilitarti l'accesso a Deer Note quando magari non puoi. E ti fa anche trasformare una Foxy Toon in una full combo che prima non era possibile senza il Samurai. Questa era l'Engine Punk. Per quanto riguarda l'Engine Therion ho giocato due Regulus. Regulus, come tutti i Punk, ha la clausola che puoi evocare lo speciale targettando un mostro o di tipo macchina nel suo caso, oppure Therion al cimitero ed equiparlo a se stesso. È come effetto che posso mandare un mostro o Therion che è scoperto sul terreno o in mano e negare l'effetto di una carta, che è molto forte e ti aiuta a giocare in mezzo all'HT. Gioco tre Lily Borea. Lily Borea ha la stessa clausola come tutti i Therion per evocarsi. Quindi di targettare un mostro nel cimitero che si appianta in questo caso o Therion per equiparlo e evocarla. E come altro effetto, che è quello principale, è che puoi mandare qualsiasi carta dal terreno o dalla mano al cimitero e a dare una magia Therion dal mazzo. Poi gioco i tre monocopia. Bull ti permette di targettare una carta Therion che controlli una carta dell'avversario e di spaccarla durante il tuo turno. Fum durante il turno dell'avversario ti fa targettare una carta Therion nella zona magia di trappola e una carta dell'avversario, rimbalzarle e duca l'effetto che rende tutti i Therion che controlli sul terreno indistruttibili dai effetti di carte. Per quanto riguarda le magie Therion, gioco tra gli scolossio. Ti permette di addare qualsiasi mostro Therion dal mazzo. Poi come altri effetti ha che una volta per turno puoi proteggere i mostri che stanno per essere distrutti in battaglia mandando una carta Therion e un engine arghiro dal mazzo. E come terzo effetto ha che se un mostro viene distrutto in battaglia puoi aggiungere qualsiasi mostro Therion dal cimitero. Poi gioco tre engine, carta che puoi mandare di questo per proteggere ovviamente. L'effetto è che puoi mandare un mostro Therion dal mazzo al cimitero. E come secondo effetto anche che puoi targettare se stessa e un'altra carta Therion che è nel cimitero, mettere questa a fondo al mazzo e addare all'altra carta. Ovviamente puoi attivare solo uno dei due effetti per turno. Poi gioco due Therion Charge. Questa ti permette di mandare qualsiasi Therion dalla mano o che controlli al cimitero e pescare due carte. Puoi anche mandare engine. E questa serve molto perché comunque hai bisogno di avere almeno un Therion al cimitero per poter iniziare ad usare l'engine. Poi gioco un Therion Stand Up, carta non molto giocata ma che ho deciso di giocare perché ti permette di evocare specialmente un Therion dal cimitero e equiparli un altro. Oppure se ne controlli uno e questo è nel cimitero, puoi bandirla, targettare un Therion nel cimitero e uno che controlli e equipare quello che è nel cimitero a quello che controlli. Serve per poter giocare intorno a Droplet e Dark Ruler meglio, poter far entrare King Calamity molto più spesso. Per quanto riguarda le carte di non-engine, ho giocato Trash Blossom, che reputo probabilmente l'HT più forte del formato, due Veiler e un Ogre, queste perché sono tutte e tre luce da millare per Chaos Ruler. Mi porto Veiler di Hulk ogni tanto quando ho millato Jet Synchron di Chaos Ruler perché mi serve per evocare Hot Thread. Mentre Ogre è forte perché si può facilitare o di Alkifibrax o comunque si può dare millata da Chaos Ruler o anche evocare da Teleport per avere un'interruzione extra. Per quanto riguarda le altre HT che gioco sono state 3 gamma e ovviamente il giallone, gamma HT più forte del weekend probabilmente, mi ha fatto vincere 6 o 7 partite, è fortissima going first specialmente in questo mazzo perché ti permette di rispondere a Ash su Foxy oppure se l'avversario usa le HT prima che è un mostro sul terreno. Poi ho giocato 3 Droplet che reputo carte importantissime in questo format perché ti permette di non far risolvere il lock di falce che è comunque sempre prevalente con il mazzo Punk Adventurer e anche altri tipi di mazzo. Oppure ti permette di giocare in mezzo a floodgate come la statua nel caso in cui non ti fanno shifter e la reputo probabilmente è una delle carte più forti e la giocheri in ogni mazzo dove è possibile farlo. Poi gioco una Call Buy e un Jet Synchron per la combo. Per quanto riguarda l'extra ho giocato ovviamente la Rising Carp come avevo già detto prima che serve per tutorarsi un Deer Note e un tuner Punk dal mazzo. L'effetto è che puoi tributarla è Evoki 2, due non livelli 8 dal mazzo. Poi gioco Calamity, Calamity è quello che cerco di fare ogni game. L'effetto è che si può evocare con due tuner, è un mostro sincro, drago, oscurità. E' l'effetto è che quando viene evocato puoi attivare questo effetto, l'avversario non può rispondere alle attivazioni di questo effetto con niente. Per il resto del turno in cui viene evocata praticamente l'avversario non può attivare carte o effetti di carte che controlla. Come altro effetto ha che se distrugge un mostro in battaglia puoi infliggere danni equivalenti all'attacco del mostro. Praticamente ho evocato questa nuove game, penso, durante il weekend e ho vinto tutti e nuove quelli in cui ho evocato. E' molto oppressiva, molto più oppressiva di falce in mia opinione. Poi ho giocato un Psychic and Punisher, questa molto forte perché se hai meno life points dal tuo avversario diventi immune dagli effetti delle carte. Cosa che succede molto spesso perché paghi comunque life points di Ziamin e di altre carte. Vince la sola matchup contro Control o comunque contro Sky Striker, Flander, Sentra, è difficilissimo da togliere. E in più all'inizio della battle phase guadagni attacco uguale alla differenza di life points con l'avversario. Quindi continua a diventare più grosso e più grosso. E in alcuni matchup capita che magari è l'unica carta che è sul terreno ma l'avversario non la può togliere. Quindi continua a pomparla ogni inizio battle phase e attacchi per game ad un certo punto. Poi gioca Hot Red, serve per la combo per evocare questo. In più in combo con la trappola Therion ti permette di negare Dark Ruler e Droplet se l'avversario con Droplet non scarta trappola. Poi gioca Ghost Ruler, ovviamente serve per la combo in cui mili 5 con Dear Note e Ziamin. Un Amazing Dragon, un Baron de Fleur e una formula che serve per fare le combo e te la porti di Alkyfibrax. Poi come Xyz gioco un The Vampire Zombie, serve per fare la combo mil nove. La maggior parte lo fai quando non hai accesso a Gredenza al cimitero e hai bisogno di avere un Dark per evocare Chaos Ruler sempre. Un numero 38, uno Zeus, poi ho giocato un Alkyfibrax per la combo ovviamente, un Dark che toglierei per qualcos'altro, non so ancora la cosa. Una Selene e un Access Code che mi hanno fatto vincere molte partite perché insieme a Regulus fanno già più di 8000. Oppure la maggior parte di Therion diventano 2008 superiori perché guadagnano sempre 700 quando un altro Therion viene equipato. Un'altra cosa da menzionare per le carte Therion è che hanno tutto l'effetto, che se sono equipate il mostro a cui viene equipato, se è Therion, guadagna l'effetto di questa carta. Quindi per esempio se ho Regulus al cimitero e ho Borea in mano, posso targettare Regulus, evocare Borea, equipare Regulus. Quindi questa carta ora sia l'effetto di Borea che può mandare una a dare, ma anche guadagna 700 di attacco, quindi diventa 3100, ma guadagna anche l'effetto di poterne gare. Cosa che rende questo engine molto forte e la ragione per cui ho voluto giocare il mazzo. Mentre per quanto riguarda la side, ho giocato 3 anti-spell per il going first, non volevo giocare di barrier perché anti-spell è più forte contro più matchup. Mentre di barrier secondo me sì è forte contro i mazzi più forti del meta come Swordsoul, Despia e altri mazzi sincro o fusione. Però questa secondo me rimaneva più forte perché rende molto più difficile al tuo avversario rispondere alla lock di Calamity. Poi ho giocato 2 token collector e 3 Nibiru per il matchup contro Swordsoul, dato che è comunque un po' complicato, specialmente quando vai primo, ma anche quando vai secondo. Hai bisogno di trasferire una board in più minimale possibile così da poter giocare in mezzo alle interruzioni che hanno. Poi gioco 3 droll, mi aspettavo molti mazzi adventurer e molti flunder che comunque rimangono un matchup un po' ostico per questo mazzo. Quindi ho deciso di giocarla nella side. E ho poi giocato 3 Twin Twister e un reboot per i mazzi control. Ringrazio ancora Vergence per l'opportunità. Spero che appunto questa deck profile vi sia piaciuta. Se avete qualsiasi domanda penso di possiate commentarla e risponderò personalmente o Vergence lo farà. Ringrazio Gaming Tonight ancora e saluto tutti gli iscritti. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.